ciao a tutti i ragazzi sono spiderweb e lui è... bello a tutti i ragazzi sono nel canale di spiderweb, wow. Allora oggi da come avete visto siamo su Akinator, un gioco che non ha mai fatto nessuno, diciamolo nuovo, e niente giochiamo giochiamo con questo simpatico età 1800 anni, bellissima età Allora pensiamo a un personaggio per prima, a chi pensiamo, a chi pensiamo? Allora il nostro amico, mio fratello, ciao, ha detto di trovare... io intanto mangio le patatine, ha detto di trovare... vediamo se capite voi chi abbiamo pensato. Allora, nazionalità italiana? Sì, sì, sì. Dunque... Akinator quando vuoi ho cliccato sì eh! Genio! Pronto? Ho cliccato sì! Cliccato... Akinator! Salve! Pronto? Clicca sullo schermo a cacchio! Dai! Stai cliccando! Ha cliccato! No! Frettino vai! Ingrippa! Ingrippa! Non funziona! Come non funziona? Ma dai! Ce la play... Abbiamo messo in inglese perché noi siamo bravi allora è una ragazza... Lo capisco l'inglese eh! È una ragazza? No! Non è una ragazza... Potrebbe essere! Questo? Perché mi hai sputato! Esiste veramente? Sì ma... Purtroppo sì! Come purtroppo? Purtroppo sì! È famoso... è famoso... è un famoso youtuber... Non è tanto famoso! Ha tolto il canale ma l'ha rimesso! Probabilmente! Probabilmente! Non è proprio... cioè sì... È un gamer! No! No! Ma perché va su youtuber? È fin... è sposato? No! È single! È single! Giustamente! È un... cantante? No! Non canta lui! Non canta! Che cazzo fa? No! No! È... vive in America? Sicuro no! No! È un... è famoso... grazie a Youtube! Sta... sta... sta neviano sì sì! Sta neviano! Eh... vive in... Inghilterra? Ma no! Se ti abbiamo detto no! 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 America e Inghilterra è diverso! Cretino! No! Non è inglese! Perché c'è inglese! Ehm... dunque... Oh! Stai qui là! Ehm... Devono vedere mentre mangiare le patane! Ma perché devi mangiare le patane? È formaggio! È invol... in... scandal? Eh? Ma dove fai? Non so cosa vuol dire! Tu nel caso no! 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 È... è europeo? No! Come no? Sì! 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 Sì Romani! Ma non è romana! La smetti? Lituani, vabbè, facciamo tutta la terra già che ci siamo, non lo so! Arrivo in Puglia! L'ha finito! Lago incredibile! Si è ribloccato! Come si è ribloccato? No, è un... no, no, sta pensando a Belen! Come Belen? Ma ti abbiamo detto che non è una femmina, è un argentino television actor! Sì, sì! Ma non è argentino! È argentino! Ma no, ma che cazzo! Le patane, no! Dove ti è... Del pipolo! Eccomando! Le patane sui pipolo? Dai, continuo! Allora, è un garib... Basta! Ma basta! Basta! Ehm... muore? Muore! Ha due... Ha due... ha due orecchie che... Credo! Ha due... ha due orecchie! Ha due orecchie, si! Ha due orecchie, si! Ha due orecchie! la cento con Slovacchia! Basta! 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 No! Ci chiede... ha scritto il libro delle falene serie... Manu, da quando stai scrivendo no adesso ti esce la morte, scommetti! Oddio! Ma basta! Slovacchia! 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 È andato a Danish school! No! È andato in scuole danesi! Ma che cazzo di domanda è? È andato in scuole danesi! Danish school! Negativo! Ma perché fa queste domande? È russo! Lo smetti! Negativo! È italiano! È ita... italiano! Italiano! Youtube! MoVlogs! Oh! Basta! I youtuber stanno invadendo il mondo! Da tutto il mondo ci ha chiesto! Ha pensato a tutto sto tempo di youtube di tutto il mondo! Ma assomigliare alla tua ombra! Quindi la tua ombra è... Ma tu sono youtuber a Kinator allora? Comunque no! No! Continua! Sì! Comunque stiamo pensando a... Stiamo pensando... Aspetta! Giuseppe Simone dai! Ehm... Linked with Skylands! Skylands! Nel caso assolida mamma! No non credo! Sorry! Ha una... una ragazza? Non penso! No è simile! Oh no! Non ce l'ha la ragazza! Ne ha alcun quilo di vagina! Cina! Ehm... Finlandia! 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 Chi c'è in Finlandia? Finlandia? Finlandia! Basta! Chi c'è in Finlandia? Ci sono degli youtuber in Finlandia probabilmente! Oh! Ho cambiato domanda! Che bello! Dunque! Ehm... 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 Di un anime? No! Non è di un anime! Oh! È reale! Anime cartone animati giapponesi! No! Ha un iPhone! Probabilmente! Non lo so! No! Non ce l'ha! Non ce l'ha! Non ce l'ha! Non ce l'ha! È povero! Poverino! Ha degli animali? Mmm... No! Non... Non!